Era fuori dal carcere per un permesso premio e ne ha approfittato per violentare e rapinare la dipendente di un ufficio pubblico. È accaduto a Bari, dove i carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto un pregiudicato di 53 anni, Cosimo Damiano Panza, già detenuto nel carcere di Lecce. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo, Francesco Pellecchia, su richiesta del sostituto procuratore, Simona Filoni. I fatti contestati risalgono al 6 ottobre scorso, quando l'uomo si sarebbe introdotto in pieno giorno nella sede di un'associazione. Con una scusa avrebbe poi tirato fuori un coltello minacciando la vittima, una 27enne, costringendola a consegnargli il denaro che aveva nel portafogli, circa 15 euro, e rubando altri 350 euro da una borsa lasciata da un'altra dipendente, allontanatasi per la pausa pranzo. La donna sarebbe stata poi costretta a seguire il 53enne in bagno ed abusata sessualmente sotto la minaccia dell'arma, sino a quando, approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, sarebbe riuscita a fuggire, rifugiandosi in un bar per chiedere aiuto. Scattate le indagini, è stata proprio la descrizione fornita dalla vittima, incrociata con le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza installate nell'edificio, a permettere agli investigatori di identificare l'aggressore. Il provvedimento emesso dal Tribunale barese è stato notificato all'uomo direttamente in carcere. Le accuse sono di rapina e violenza aggravata, sequestro di persona e porto abusivo di armi.